come è stato possibile conseguire questo risultato siderale in un contesto di grande incertezza come quello che abbiamo vissuto con grande calma pazienza ma soprattutto con una dedizione al lavoro assoluta bello dedizione al lavoro insomma e quindi va bene voi siete parlanti no poi devo dire con una squadra che è veramente eccezionale bene ce le presenta rapidamente assolutamente sì francesco stefania lorena federica è ovviamente un piccolo team ma abbiamo altri colleghi che sia a milano che a roma non sono potuti venire ma sono tutti nei nostri cuori perfetto dea capital grazie grazie mille i nostri primi vincitori il premio il premio voilà